Di Twitch Mi faccio bondare Bella compra coca Ora vediamo il fantastico Serra Con DK contro Game & Watch Che in realtà vi dirò Tutto sommato non è un make up così Ma lo spete via Sacricano Io ne ho di più Vuoi fare a casa Eh micchia davvero Vabbè io sono donna Le mie vago un di più Giusto Giusto così Allora io ho scelto la Game & Watch Ma pure con Che cazzo fa Eh non lo so È la NovaCaster È simpatico Hanno scritto pure Che infammi a farmare views con le tette di Ciao Lety Ciao Sto bene Tu come stai Lore Sai che non si vede a Welcome Home No Ma noi vediamo quello che c'è qui No noi vediamo le chat Noi vediamo Va bene Letizia Non sei brilla Mi raccomando Ciao Ciao Ma è tutto ciò Ma a parte A parte che non ha senso Ma che si Diciamo Ah Lorenzo sta Oh io ho scritto Potresti Potresti Effettivamente Intanto il giocatore del nord Sardegna Ma in vantaggio Ma cosa vuol dire Perché il giocatore migliore vince sempre su questo gioco Il giocatore che mi sa Vabbè niente Il giocatore più carriato vince sempre No 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 Non diciamo queste cose che sei minorenne Non scherzo Le ho scritte io Signori che non smetti Lo ho scritto io Lo ho scritto io Stai ferma No scrivevo Non scherzo Ti ammazzo Ti tocca il ca... Vabbè Vabbè Accettato Signori Porco Dio Le potizia Oh l'ha giaglato per un po' di tempo Comunque Beh è grosso 800 km Grande quanto una casa E se non riesci a giaglarlo Porco Dio È un problema È un problema È un problema È un mio motorio Non riesci a cliccare il tasto A No A gente Vuol Sì Ah 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 Comunque Ma perché scrivi Sei in streaming Deficiente Ma basta che parli Letteralmente Hai la voce D'altro canto Letizia D'altro canto in realtà Sono felice di così Perché Oh Letizia Se facesse la e-girl Secondo me Guadagnerebbe una marea di soldi È la terza persona Che lo dice Come la terza persona L'ha detto Pina L'ha detto L'ha detto Cos Edoardo sa tutto Non sa niente Sto ragazzi Cristian non ci interessa Quante persone Ma che cazzo si chiama Chi ha detto Eletti vuoi sponsorizzare Il Tollyfans Dato che No 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 Avvia 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 Vabbè Avvia non conta un cazzo Bella DI da parte del game Voce che quasi ci moriva Ragazzi Tollyfans Sconto del 200% Sì Buon viaggio È l'inizio di un ritorno Madonna Il giocatore migliore Continua a vincere È incredibile Ma perché hanno lasciato Avvia figlio Non so Avvia figlio Non devi leggere la cianne Devi guardare il match Ed è morto signori È morto Che chi conferma Ha vinto lo sport Dio Ha vinto L'amicizia Sono veramente pessimo Me ne rendo conto Ha vinto l'amicizia Io penso di voler insultare Dio In questo momento Alghero Chiru Allegro Chiru Alghero Alghero Chiru Ricordate Tu non hai bevuto un cazzo Vera Tu non hai bevuto un cazzo Io non ho bevuto niente Ok Siamo noi quelli che hanno bevuto Ti ricordo Devo giocare? Vai vai Christian Vai Christian Secondo te Christian vince Io dico di no Non lo so Contro chi è Boh Ah ok No secondo me vince Tu dici? Hai tanta fiducia Uno sciottino? Uno sciottino L'abbiamo detto eh Madonna Io sto offrendo alcol a minorenni Mi devono arrestare Ma non riesco Non mi sa Eh non sai perché Questi hanno fatto altro Minorenni Allora Ah finalmente Serra ha la licenza Di picchiare un pg vero Ci ha messo un po' di sette A capirlo Però alla fine Ce l'ha L'importante è imparare Non importa il tempo Fai la tua potta Muretti sdammo Allora Riprendi Oddio Sedia Dash attack sulla piatta Serra se Madonna Ma che brutto E Mette a casa Una delle sue Delle palline di Sephiroth Sì Quella roba Killer a zero Non si dice Non si dice Non si dovrebbe dire Esatto Però Si dice comunque Cosa No Mi devo abbandonare No No Ma che cazzo Tranquilla Quindi devo combattere ancora Non devi combattere Con il tuo cibo Devi mangiare Penso che ci interessa Dove andiamo? Stiamo ordinando Underworld Ordinando? Sì Minchia Rischioso Perché rischioso? Perché Perché Dario Aveva detto Che non No Cosa hai detto Perché è di caotico Era una tua via 20 secondi Cosa è successo? Tizia Qualcosa che devi dire Perché sono sempre pieni Quindi Sono sempre pieni Underworld Ah ok Ho capito Sono sempre piedi Pensavo avessi detto Qualcosa è su piedi No Io non sono Feticista Odio i feticisti Lorenzo Vaffanculo Lorenzo Vaffanculo Vieni Eh vabbè No Vedi Venti la chat Calma calma Non c'è la cena chat È fisio È fisio Io devo ancora farmi prendere la roba da Paul Tra l'altro che ce l'ha in macchina Quindi tu ancora non sai cosa ho preso Leggina antipiedi Puoi dirlo forte Cazzo Incredibile Eliminiamo i piedi dalla vita reale Tutti Devano avere i piedi come Game Watch E infatti Che è un orale E infatti diciamolo Si dorme coi calzini Si dorme coi calzini Si dorme coi calzini Alzatevi tutti quanti Andatevi in via da questa conglia Di là l'uscita No no Forza che a te le devi andare Ma a te le devo arrivare Sono teo regionale Non posso andare Ciao Si dorme coi calzini Bravi Continuate a dire No Non rubate il cristian Va bene Fantemi parlare Se siedi a fianco Vieni anche tu Muretti Andiamo I piedi non sono di plastica E devono essere comunque eliminati Si dorme coi calzini Si tromba coi calzini Giusto Lorenzo Giusto Giustissimo Ha ragione Ma si possono dire Ragazzi Però fermi Ma si possono dire Cazzo Cazzo Ma si possa Ma si può dire Questa cosa Sottrisce Un attimo Cristian base Ma hai detto tu Io ho ripetuto E confermo Confermo I piedi fanno cagare Confermo Va bene Calma ragazzo Non lo dico Ha ragione Ok Me ne basta Come diamo il match Guardiamo questo tumore nero Che viene Di urlare Per dare hype Mi raccomando Non guardiate i piedi Di mister game watch Non guardate i piedi Solo i piedi Però Il resto Per guardarlo È tutto unito Un po' Il tonero Ai signori Ora parte il japlin Mai Mai Lorenzo Mai Non so quanti piedi ci sono Non so quanti piedi ci sono Ci siamo capiti Lui non sa quanti piedi ci sono Sì sì assolutamente Ma no Il game watch player più stillato Che ha una mossa che batte quella lì E gli dà pure vantaggio Aspetta Li mettiamo alla chat Che stai riprendo bene Ragazzi Sto commento Li fa i baci Da tutte le parti Fa jager Da tutte le parti Direi Se vogliamo dirla tutta Madonna di Dorda si becca le robe La di hai Non so cos'è la di hai Usa Che cazzo di hai Dei one Vabbè non so cos'è la di hai Che disastro Cristian Lorenzo ti amo Per favore Ti amo Lorenzo perché non sei qui Lorenzo perché non sei qui Perché deve giocare a pokemon Basta Raffanculo Raffanculo Giocatore di Violetto Ma come ti fermi Meglio Violetto di Scarlato No magari C'è il futuro Meglio il futuro del passato E per cosa Dicelo Meglio Meglio il futuro del passato Diciamo Non è una scusa Lui ha avuto casini Vabbè Anche ho avuto casini Ero tiltato a merda Ho recitato due volte Eppure sono qua Lorenzo Se la prossima volta non ci sei Un disastro Signori E guardo qui hai il coraggio E vabbè Qui vuole dimostrare quanto Esca Ma che cazzo fa Ma non sa giocare con Game & Watch Che cazzo picca Ganandorf E' il momento giocatore schillato Vediamo ma Bravo Fai bene Ma perché Serra non ha piccato Guarda il match C'è su Chris Serra non ha piccato Sei tiro contro di me Oh la chat ha la sua importanza Bisogna guardare No certo Però dico Non stai quando per niente Invitare le tizie al commento E' stato l'errore più grande L'hai fatto tu Guarda 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 Risolviamo Risolviamo Ho risolto Io sto dando views Perché sono femmina Non c'è più la chat Io sto dando views Perché sono femmina Allora me ne vado Ma dai view se si fa della webcam Se da webcam non si può Oh comunque la situazione Diciamo che è mezza even Mezza vorrei piangere Dove devi andare? Stai a ferma però Devo andare Ma che cazzo vuoi? E tu? Madonna che violenza E' violenza repressa Come qualcun altro Ma lei lo controlla di me Ok Ma Edoardo qui è in vantaggio Ma com'è successo? Non lo so Com'è successo ragazzi? Perché Edoardo è in vantaggio? Sei suicidato E Mattia Vorrei ricordare che Quella persona che fa parte Della nostra community Che stiamo Senti Tra Game & Wash Luigi e Wario Ma non fotte un cazzo Se nella mia community Devono sparire Ed è qui che è arrivato Il signor Giuseppe Il grande Il mito L'unico Eh si beh Cazzo ogni aspadata Che gli ha tirato No vabbè Cazzo fratello Non hai mai vista Quella aspadata L'hanno aggiunta oggi Comunque belle palle per l'ero Stavo usando Gando Io lo amo Deve vincere il torneo Solo perché ha usato Gando Ma non penso Non sono d'accordo Io si Beh lui è in Grand Final Penso non sia d'accordo In ogni caso Madonna Madonna E il giocatore E il giocatore più forte Oh ma vuoi di spaccare Tutto quello che Vedono fatti È incredibile È allucinante Tu devi stare Ha fatto E face smash Non sono calmo Aveva letto Lo spot Sono morto a zero Da Luigi Non sono calmo Non posso essere calmo Sono morto a 20 Da Wario E 10 da Luigi E impara a giocare Tra le altre cose E impara a giocare Ma non ho pazienza In questi giorni E torna in qualche maniera Grande qui Edoardo che Edoardo è un bel cazzo Non lo so Edoardo è un bel cazzo Ma per favore Almeno non disturbarli Intanto che giocano A pair Che prende Che chiude così la stock Signori Ora possiamo commentare Uh Da un throw nail Oh Che cazzo fa L'aveva quasi preso Comunque No era una gran stronzata L'aveva quasi Era una gran stronzata L'aveva quasi preso Ma l'ha fatto in aria o in terra? A terra Ah ok Quindi almeno era già Invincibile Almeno quello È morto Perché non ha il salto Ah no ha il salto Però non ha erdoggiato O interno Esatto Non sa fare le cose Da E qui Serra Si porta sul 2 a 1 Peso Veramente peso Immagina portare canna Dal fatto che non sa Per diardoggiare Per recuperare Cioè E' stessando metà Del toolkit Del personaggio Praticamente Tu oggi Sei un po' troppo aggressivo Si chiama tossico Non aggressivo Oggi tu Hai perso Da Da Wario E improvvisamente Ti è salito il sale No Ce l'ha già da prima Il sale Non Non avre mai giocato bene Contro Wario Volevo giurare contro Edoardo Perché anche se sono tiltato Contro Wario Dico lo stesso Parole dure Sono fatti Parole dure Da un uomo Che non ha fatto Top 8 Da un uomo Che ha rispettato Due volte Per la prima volta Nella sua vita Sono 2-1 per Serra E sono 2-1 per Serra E dopo ci sono gli a Serra Però c'è Reset Forse Resetta Secondo me Serra Reset Che non voglio vedere Che non voglio vedere Quando finiamo il tuo lavoro Saliamo Crubato Di massa Come del resto No Mita e mezzo Più basso Più basso Più basso Ma già facciamo i miei Cosa vuol dire? Fai gli auguri Che scifoso bracone di pinta Auguri Auguri Christian No 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 Basta Basta Signori Quello di Christok è 4 su 10 Mi dispiace Ma non l'hai mai visto il mio cazzo Fisio Io voglio Se metterlo in più Vorrei chiedere Vorrei saperlo Fisio Non vuoi vedere il mio cazzo Non lo stai chiedendo dappero Ti ho già dato 35 euro Contentati Ti ho già dato 35 Perché gli ho comprato Kirby Sarà Hai compratenuti i nudini Abbiamo capito tutti quanti questo L'ho detto Sarà Lai Inudini? No no È una cosa molto bannabile Ti abbandona i commenti Va bene No non è vero Ma Chris Va bene La situazione comunque è abbastanza tragica Ora per Edoardo Che dovrebbe recuperare una stocca Però noi sappiamo tutti che Nel cuore dei I rappresentanti regionali Fanno co-creating Altismetismi Sono un rappresentante regionale Da domani Quindi devo farlo anche io E fisio Da domani Perché domani cosa succede Amarello Gioca poche Sparisce per sempre E vabbè Ok Tira fuori il cazzo Muretti Devo fare co-creating E va bene Tra parenti Questo Gioca Non hai mai visto il cazzo di tuo fratello Cioè Porco Dio Intanto vediamo un tristock pulito E un po' ci godo Ma per favore Oh Incredibile È difficile Smettila Smettila Almeno stai calmo Il giocatore più forte Ha rischiato di morire In questa situazione Smettila Si è il giocatore più forte È un po' generico Perché così Non mi posso Arrabbiare dopo Ah Dici che un po' tutti Sono giocatori più forti Sì Perché in fondo Chi vince Non è altro che l'amicizia Chi vince la fine Non ha perso Quindi Non è Il giocatore più forte Il giocatore che ha perso di meno Chissà se In realtà raga Vince Non vince Edoardo Vince Ma Edoardo Dai Questo non si dice Come non vince Wario Come non vince Luigi Come non vince Palutena Infatti ho preso il caso Dai Ma perché quello Perché Palutena non vince Ora quando Beh che fa un'altra Sette Tu ti hai fallito È figio Non puoi dire queste cose Ti ho dato 35 euro È morto No Ancora il salto Se ci moriva Mi incazzavo Lo sai che mi incazzavo Ma lo stava tristoccando Cos'è successo È successo che Edoardo Si è ricordato di essere Il giocatore più forte Più carriato Di Di Smashing Se non Ma non ci posso Non ci posso credere Ma come cazzo si fa Dopo due Tu torni Edoardo Edoardo Vinci per noi Come si fa A non scitare la sedia Porco Dio Edoardo Vinci per noi Porca madonna Vuoi venire a commentare Vai Viene a commentare Ragazzi Vieni a commentare Cosa 2 a 2 Aspetti Che si è scorreggiato Sarà fatto Cristian Sono stato io Sono stato io Mi dispiace Di chiacca Autore di merda Pure Pure di merda Veramente Sono state le patate Del kebab Mi dispiace Porco Dio Sono allucinanti Dario No Non ti avvicinare di qua Edoardo fidati Non ne vale la pena Edoardo fidati Mi dispiace Lo sai chi dovrebbe piangere In questo momento Perché lo stava tristoccando Cosa è successo Tutte e due Le decce li ha Sono le tempistiche Trovate Trovate Sedia Da sciattacca Quanto colo Vediamo se fa Bravo Edoardo Castellato Ma sono fiero di lui Non avrebbe mai funzionato Ok Qui Lancia dietro E deve liberarsi Delle cose Uh Fortissimo Perché intanto Lui sa che Quellerà Vogliono dire Stocca a zero Persa da Da sera Sì 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 Ammazza stra presto Basta con sta role Edoardo La fai sempre Cioè Se sei salvo Aspetti e speri Ti stacchi In quella situazione Però La verità In questo momento A livello mentale Serra deve essere Veramente Nel panico Perché Cioè Pensa Lo stavo tristoccando Il game Il game prima Però Sta ritrovando La sua pace mentale Secondo me Sì sì Boh Non l'ho visto Nelle altre partite Però qua vedo Che comunque Sta recuperciando E tranquillamente Più avanti Sì Ora Vediamo se Edo sa Edgard d'Aressa e Epiroth Sbaglia Qui la confirma E si risistema Per lanciare altre Salsicce Sto a fare il tiro No no Lì era giusto Quello che ha fatto Non puoi punire Il downhater Super sour spot E qui mi dispiace Ma c'è veramente La vergogna Di tutto lo stato Oddio è morto Questa roba Attaccata al culo Ce l'ha fatta male No è perché Ha il controller Che snappa tantissimo Sì 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 L'ho visto anch'io Purtroppo E qui è pesante Perché non è Questa colpa Sola È stata colpa Del controllo Quello che dicono Tutti i player forti Ho chiuso Lo chiamiamo Bel counter E qui la situazione E qui torna E qui non torna più E invece la B di Sephiroth È gigantesco È il downhater È attatto Di high in Sul downhater Di Sephiroth È dallo stick È dallo stick È dallo stick E lascia